A Mascali la conferenza dei capigruppo si è aggiornata a lunedì. Le forze politiche ad inizio della prossima settimana si sono impegnate a produrre alcune proposte per ridefinire le commissioni consigliari permanenti che sono decadute dopo le dimissioni di diversi componenti. Ci sono tre soluzioni da vagliare, o il mantenimento delle attuali quattro commissioni o l'aumento a cinque o a sei. Finora non c'è una linea unica, specie nella maggioranza dove il sindaco Luigi Messina ha lasciato carta bianca ai suoi consiglieri. Per il primo cittadino le priorità in questo momento sono altre e sono due in particolare. Innanzitutto accelerare con il bilancio di previsione 2016 che potrà tornare in giunta probabilmente la prossima settimana e poi Luigi Messina vorrebbe approvare sempre in giunta il progetto esecutivo per il rifacimento di via Merigo Vespucci a Carrabba. Dopo le difficoltà del primo anno Luigi Messina vorrebbe ripuntellare il suo consenso a partire dalle frazioni. Lunedì in conferenza dei capigruppo, oltre a provare a definire la babele commissioni, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Priolo vorrebbe convocare una nuova seduta per esitare le altre proposte. Sulle commissioni, specie per la maggioranza, sarebbe importante arrivare con un'unica proposta evitando divisioni inutili. Grazie a tutti.